Con la difficile situazione che stiamo vivendo, abitare in una casa indipendente è un vero privilegio. Ti porto con me in questa villetta unifamiliare immersa nella campagna, dove potrai respirare un'aria pulita e godere di una vista indimenticabile. Questa casa è stata ristrutturata completamente tre anni fa, con dettagli unici e materiali all'avanguardia. La casa è sviluppata su tre livelli, con tre camere da letto, una cucina, un soggiorno e i doppi servizi. L'arredo moderno e i dettagli rustici contribuiscono a creare un'atmosfera di relax che troverai non appena entrerai dalla porta. Avrai a disposizione più di 700 metri quadri di spazio esterno, dove potrai goderti il tuo relax insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia. Il giardino è talmente grande che ti permetterà, se lo vorrai, di realizzare una piscina. Abitare in questa casa è il modo migliore per far crescere i tuoi bambini felici a contatto con la natura e con gli animali.